... ... ... ... ... ... ... Guardate quel puntino. Lo vedete? In fondo? Vi aiuto io. Eccolo. Sapete cos'è? Ve lo dico io. è la terra, è qui, siamo noi. Su quel piccolo granellino azzurro ogni persona che amate, ogni persona che conoscete, ogni persona anche solo di cui avete sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito ha vissuto la propria vita. Così Carl Sagan nel 1990 commentava questa foto. Una foto che ci giunge da più di 6 miliardi di chilometri di distanza e che avrebbe cambiato per sempre la nostra percezione di chi siamo nello spazio ma anche nel tempo. Dall'inizio della ricerca spaziale abbiamo identificato più di 5 mila esopianeti che sono tutti quei pianeti che si trovano fuori dal nostro sistema solare. L'obiettivo era quello di trovare un pianeta che assomigliasse al nostro e abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti. Alcuni di questi pianeti hanno persino acqua liquida sulla loro superficie. Certo questo non significa che siano abitabili per noi e se anche lo fossero non potremmo mai raggiungerli perché le nostre tecnologie non ce lo permettono. Quindi questa foto ci ricorda che la Terra è unica, una gemma rara nell'universo e quindi sorge spontanea la domanda perché allora andiamo nello spazio? Perché investire tempo, soldi e risorse in qualcosa che non sappiamo se esiste e se anche esistesse non potremmo mai raggiungere. Beh se c'è una risposta a questa domanda forse dovrei saperla io. D'altronde ho studiato ingegneria aerospaziale, ho preso un master in aerodinamica e sistemi di propulsione, pubblicato diverse ricerche e persino collaborato ad un progetto con la NASA. Non che servisse fare tutte queste cose per arrivare a una risposta, però volevo fare le cose fatte bene. Però in tutto questo tempo non mi sono mai soffermato veramente a pensare a questa domanda, forse perché nella mia testa la risposta era scontata, era ovvia e in qualche modo pensavo che dovesse essere ovvia anche per gli altri. Ovviamente non è così. E me ne sono accorto quando ho cominciato a raccontare lo spazio. A un certo punto ho deciso di cominciare a postare dei video su Instagram, YouTube, cercando di raccontare lo spazio e la scienza in una maniera un pochino più accessibile, più semplice. E mi sono reso conto in questo fra gente che ci sono un sacco di persone che sono scettiche riguardo all'esplorazione spaziale. Anzi, sono sicuro che fra di voi sicuramente c'è qualcuno che la pensa allo stesso modo. E quindi stasera sono qua con voi per cercare di rispondere insieme a voi a questa domanda. Perché andiamo nello spazio? E nel farlo voglio portare alla vostra attenzione tre commenti, tre obiezioni se vogliamo, che sono quelle che mi vengono fatte più spesso sotto i miei video sui social. E queste tre obiezioni, questi tre commenti, hanno a che fare con gli spaghetti, il brindisi di Capodanno e la bomba atomica. Non vi preoccupate, avrà tutto un senso alla fine, promesso. La prima domanda, forse quella più frequente, perché dobbiamo spendere soldi per andare nello spazio anziché spenderli per risolvere i nostri problemi qua sulla Terra. Perché in effetti andare nello spazio ci costa parecchio. Nel 2020 la NASA da sola ha speso 23 miliardi di dollari. Certo, non ci viene detto che in realtà questa è solo una piccolissima fetta del budget federale statunitense. Non ci viene neanche detto che la NASA genera molti più soldi di quelli che spende grazie alle sue ricerche spaziali. E non ci viene neanche detto che al momento fornisce più di 300.000 posti di lavoro in tutto il mondo. Ma questa è la NASA e al mondo non c'è solo NASA. Di fatto ad oggi ci sono nel pianeta più di 10.000 aziende aerospaziali, 200 delle quali si trovano in Italia. Quindi anche da italiani lo spazio ci tocca da vicino. E più che noi possiamo dire che tocca il nostro portafogli. In effetti ognuno di voi, con le proprie tasse, contribuisce ogni anno a finanziare la ricerca spaziale. So che molti di voi non sono contenti di scoprire questa cosa. E sarete ancora meno contenti quando fra un attimo vi dirò quanto ognuno di voi spende all'anno per finanziare lo spazio. Siete pronti? 16 euro. Se andate a Riccione un piatto di spaghetti allo scoglio vi costa di più. Per farvi un altro paragone, ogni anno ognuno di voi, per le spese militari e la difesa, spende circa 433 euro. Quindi forse lo spazio non costa poi così tanto come vogliono farci credere. Però è comunque vero che ci sono un sacco di problemi sul nostro pianeta che forse meriterebbero la nostra attenzione. Per pensarne uno, la fame nel mondo? Ad oggi una persona su 10 sul pianeta è malnutrita e 9 milioni di persone ogni anno muoiono per malattie collegate alla malnutrizione. Quello che non vediamo però è che in realtà lo spazio ci aiuta a combattere queste piaghe. E lo fa in particolare grazie a un gigantesco laboratorio, grande come un campo da calcio, che si trova a 400 chilometri sopra le nostre teste. Sto parlando della Stazione Spaziale Internazionale. All'interno di questa stazione gli astronauti eseguono un sacco di esperimenti e cercano di scoprire nuove tecnologie per migliorare ogni giorno la nostra vita sulla Terra. E ovviamente, come sospettate probabilmente, nello spazio non c'è acqua. E portare continuamente acqua sulla stazione costerebbe tantissimo. Quindi a un certo punto gli astronauti hanno dovuto ingegnarsi e riciclare l'acqua che era già presente sulla stazione. Difatti ad oggi il 90%, quindi quasi tutta l'acqua che è presente sulla stazione, viene riciclata e poi riutilizzata. Quindi sì, se ve lo state chiedendo, in questa foto Samantha Cristoforetti molto probabilmente sta bevendo la propria pipì. E anche questo non volevate saperlo. Ovviamente nello spazio non c'è neanche cibo, ovviamente. Però stiamo cercando di trovare dei metodi per coltivare e produrre cibo in assenza di gravità. E stiamo ottenendo dei risultati niente male. Guardate queste piantine di peperoncino che in questo momento sono sulla stazione. Quindi tutte queste tecnologie, queste nuove scoperte, ci permettono oggi di portare acqua pulita anche nelle zone più remote del mondo e di riciclare quell'acqua una volta utilizzata. Non solo, ma capire come coltivare in ambiente estremo ci permette di rendere coltivabili tutte quelle zone del mondo che non potrebbero essere adibite a coltivazione. Poi ci sono un sacco di altri utilizzi per le tecnologie spaziali. Pensiamo ai pannelli solari che sono stati inventati per dare energia elettrica alle nostre navicelle spaziali e che oggi ci forniscono energia pulita. Pensiamo alle TAC, alle radiografie, che erano delle tecnologie che nello spazio si utilizzavano per elaborare le immagini spaziali e che oggi ci permettono di vedere e diagnosticare meglio in ambito medico. Quindi quando mi viene chiesto perché dobbiamo investire dei soldi in ambito spaziale anziché investirli per migliorare quello che abbiamo qua sulla Terra, la risposta è che è proprio quello che stiamo facendo. Che proprio grazie alle tecnologie spaziali possiamo combattere piaghe come la fame e la sete nel mondo e che senza le tecnologie spaziali queste difficoltà sarebbero molto 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 più complesse da combattere. Poi c'è la seconda obiezione, il secondo commento che leggo più spesso, soprattutto quando parlo di Marte, di andare su Marte, colonizzare eventualmente Marte nel futuro, perché molte persone pensano che dovremmo concentrarci prima a salvare la Terra anziché pensare di andare su Marte. E c'è grande verità in questa frase perché abbiamo visto all'inizio che la Terra è una, una gemma rara, e forse dovremmo salvarla e preservarla. La cosa? Cambiamento climatico, per esempio. Certo, la Terra all'inizio della sua vita era un pianeta vulcanico con temperature oltre i 200 gradi, un'atmosfera che per noi ovviamente sarebbe irrespirabile. È anche vero che ha fatto a pugni con quasi tutto il sistema solare, con corpi celesti anche grandi come pianeti. Quindi mi viene un po' difficile pensare che un pianeta di questo tipo abbia bisogno di noi, una sottospecie di scimmie un pochino più evolute, con qualche pelo di meno. D'altronde siamo sulla Terra da 300 mila anni e la Terra di anni ne ha 4 miliardi e mezzo. Per farvi un paragone, se la vita dell'universo, 13,8 miliardi di anni, la paragonassimo a un anno solare, il Big Bang avverrebbe il primo di gennaio. La Terra apparirebbe più o meno l'11 di settembre. L'Homo sapiens avrebbe il suo successo nella storia non prima del 31 dicembre alle 11 e 59 di sera, un minuto prima di stappare lo spumante per Capodanno. Quindi siamo sulla Terra relativamente da molto poco e in tutto questo tempo la Terra ne ha passate di cotte di crude, ha visto ben 5 estinzioni di massa, causate dai motivi più disparati, cambiamento climatico, meteoriti, come nel caso dei dinosauri. Però c'è una cosa che accomuna tutti questi eventi, che nessuna di queste estinzioni di massa fu causata direttamente dalle specie che abitavano il pianeta allora. Non solo, ma nessuna di queste specie avrebbe avuto gli strumenti per salvarsi dalla propria estinzione. Ebbene, oggi stiamo assistendo alla sesta estinzione di massa e se avete bisogno di trovare un responsabile potete guardarvi intorno, perché siamo noi, ed è la prima volta nella storia del pianeta in cui una specie che abita il pianeta stesso è responsabile di un'estinzione di massa. Però c'è anche qualche buona notizia, ogni tanto tendiamo qualcuna, che grazie alle tecnologie spaziali, in particolare grazie ai satelliti, possiamo monitorare lo scioglimento dei ghiacciai, le correnti, la deforestazione, l'innalzamento delle temperature e agire in maniera mirata per risolvere il problema. Tracciamenti che non potremmo fare altrimenti. In più, grazie sempre alle tecnologie spaziali, un giorno potremmo sviluppare le risorse per abbandonare il pianeta qualora le cose si mettessero davvero male. Quindi, in un certo senso, grazie alle tecnologie spaziali, noi un giorno potremmo diventare la prima specie che abbia mai cercato il pianeta e che ha le capacità di salvarsi dalla propria estinzione, causata peraltro, per sua stessa mano eventualmente. Perché forse dobbiamo cominciare a pensare che siamo noi quelli in pericolo, siamo noi quelli che rischiano l'estinzione, ripeto, sempre per mano nostra, peraltro. Forse siamo noi a doverci salvare e non la Terra. Di fatto, pensare che la Terra abbia bisogno di noi per salvarsi è oltremodo egoistico. E se ci pensiamo, se domani ci estinguessimo, la Terra se la caverebbe benissimo. Così come sarei cavata nel passato in situazioni molto più critiche di quelle in cui si trova ora. E in ogni caso, se anche riuscissimo davvero, come ci piace dire, a salvare la Terra, a un certo punto, per eventi che sono fuori dal nostro controllo, la Terra non sarebbe comunque più abitabile. Il che mi riporta e mi collega al terzo commento che leggo molto spesso, secondo il quale, siccome abbiamo distrutto la Terra con le nostre attività, quando ci trasferiremo su Marte o qui per lui, allora distruggeremo anche esso. So che molti di voi forse la pensano così e sono d'accordo, ma io no, ovviamente. Perché è vero che nella nostra storia abbiamo fatto un sacco di cose terribili, commesso un sacco di errori. Però forse questi errori ci hanno insegnato qualcosa. Forse gli errori che stiamo commettendo oggi insegneranno qualcosa a chi verrà dopo di noi. E allora io mi chiedo, e chiedo anche a voi, abbiamo davvero così poca considerazione di noi stessi da non pensare di poter essere migliori di così? Perché diamo così tanto credito a tutte le cose sicuramente terribili che abbiamo fatto, ma non pensiamo mai con positività e speranza alle cose altrettanto meravigliose che abbiamo realizzato. Una su tutte, toccare con mano la superficie di un altro corpo celeste. E oggi Marte può essere di nuovo quella grande impresa dell'uomo, non solo per la grandiosità tecnologica dell'impresa in sé, ma per il fatto che Marte è difficile, è pericoloso, pieno di sfide e di ostacoli. E se davvero vogliamo farcela, allora tutta l'umanità, ognuno di noi, deve rispondere alla chiamata. Ogni agenzia spaziale, ogni governo deve fare la sua parte. Marte potrebbe essere la prima collaborazione globale della storia. Nel passato i popoli si univano per combattere un nemico comune da distruggere. Lo spazio e Marte potrebbero essere quella cosa che unisce tutta l'umanità verso un obiettivo comune da raggiungere, la sopravvivenza. Immaginiamo un mondo all'interno del quale l'essere umano è riuscito a mettere da parte quell'egoismo, quell'arroganza che lo caratterizzano per capire quello che forse avrebbe dovuto capire già da tempo, che siamo tutti esseri umani. Tutti esseri umani sulla stessa barca, equipaggio di quel piccolo granellino celeste che viaggia nel cosmo attorno alla sua stella. Ecco, se riuscissimo davvero a fare questo salto di consapevolezza e a percepire l'umanità come una specie unita, allora forse avremo una possibilità. Forse avremo una possibilità di non essere quelli che arrivano alla festa all'ultimo minuto. Avremo un'occasione di non essere stati solo una breve scintilla su quel piccolo pianeta in quella galassia ai confini dell'universo. E so che è difficile soprattutto di questi tempi immaginare un'umanità così con questa consapevolezza, però in questo senso lo spazio può esserci ancora di aiuto. Infatti quando sulla Terra non c'era spazio per altro se non odio e guerra, lo spazio era la nostra oasi di pace e collaborazione. Lo spazio è sempre stato un precursore e forse oggi può giocare ancora a questo ruolo per noi. E quindi rispondendo alla domanda iniziale io penso che sia proprio per questo che andiamo nello spazio. Andiamo nello spazio per essere migliori. Andiamo nello spazio per sopravvivere abbastanza a lungo da diventare la versione migliore di noi. E noi potremmo essere i primi a cominciare questo cambiamento. Potremmo essere ricordati come la generazione spaziale, l'era del rinascimento dell'esplorazione spaziale. L'alba di una nuova fase dell'evoluzione, un uomo che viaggia nel cosmo, un essere umano che è riuscito a elevare il suo concetto di umanità. E forse tutto quello che facciamo oggi nello spazio lo facciamo affinché questo uomo che viaggia fra le stelle un giorno possa nascere davvero. Tanto tempo fa l'universo ha avuto inizio casualmente e poco tempo dopo altrettanto casualmente hanno cominciato a formarsi le prime stelle. All'interno di queste stelle poi hanno cominciato a costruirsi tutti gli elementi che oggi compongono l'universo, tutto ciò che ci circonda, noi stessi. Siamo fatti di elementi che tanto tempo fa sono stati prodotti all'interno di una stella. Ora io non so se è vero che siamo veramente solo il frutto di una fluttuazione cosmica casuale o se invece c'è un motivo più profondo per l'esistenza. Ma una cosa la so, che siamo letteralmente figli delle stelle. E se c'è una risposta a tutte queste domande è fra le stelle che dobbiamo cercarla. Grazie.